Con un'incornata perentoria di Mario Musa nel cuore della prima frazione, l'Unione Calcio doma la resistenza del fanalino di coda Sansevero, bissando il successo esterno del turno precedente sull'audace Barletta e riducendo al contempo le già flebili speranze dei Foggiani di evitare la detrocessione diretta. Gigi Di Simone ripropone il medesimo undici di partenza di domenica scorsa con l'unica eccezione di guerra inserito in mediana al posto dello squalificato Cordisco. Bicegliesi subito intraprendente al quarto minuto, allorché Cicerello suggerisce dalla sinistra per l'inserimento di Papagni, il cui colpo di testa è neutralizzato da domingo. Al diciannovesimo il traversone sempre dall'automancino di Losacco trova il puntuale avvitamento in area di Musa, con l'estremo ospite costretto a distendersi sulla sinistra per evitare la capitolazione. Il vantaggio dell'Unione Calcio è tuttavia rimandato di appena tre minuti. Con Pierchio si produce in un'ubriacante iniziativa sulla destra e quindi apparecchia in mezzo per la corrente Musa, la cui elevazione non lascia scampo stavolta domingo e gli vale il sesto centro in campionato. I padroni di casa pigiano ancora sull'acceleratore dopo la mezz'ora con il destro poderoso di Andriano finito di un soffio a lato. L'unica chance di marca Sanseverese nel primo tempo giunge al trentaseiesimo, con il diagonale di Conè deviato in angolo dall'attento di Bari. Un minuto più tardi la volée di Papagni, innescato dal solito con Pierchio, oltrepassa la traversa. Gli azzurri accarezzano da capo il raddoppio al trentanovesimo. Domingo respinge distinto con i piedi la rasoiata ravvicinata di con Pierchio, quindi nel prosiegue dell'azione tocca a Cicerello per ben due volte tentare senza fortuna la via della rete. La ripresa si apre con un Sansevero più spavaldo. Dopo pochi secondi Alessandro Morra penetra in area biceriese ed impegna di Bari con un velenoso rasoterra. Replica dell'unione al sesto, traversone di dispoto per Cicerello, che complice la chiusura di un difensore ospite, manca la correzione vincente sotto misura. Al diciottesimo il sinistro fulminio dalla distanza di con Pierchio non inquadra lo specchio, mentre al ventisettesimo si assiste ad un'altra nitida opportunità sull'asse dispoto Cicerello, con la torsione in area di quest'ultimo, sventata in corner dall'ennesima prodezza di Domingo. Nell'ultimo quarto d'ora il Sansevero si riversa disperatamente nella metà campo avversaria alla ricerca del pari, ma l'unico autentico brivido per di Bari e compagni matura al trentottesimo a seguito del calcio piazzato dai venti metri dello specialista Partipilo, terminato non distante dall'incrocio. In classifica l'unione sale in settima posizione portandosi a più quattro sulla zona play-out, mentre il quarto stop di fila relega il giallo Granata sempre più in coda.